Primi positivi effetti della recente approvazione della rete ospedaliera siciliana per l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Gli annuncia oggi la direzione generale dell'Asp dopo che l'assessorato regionale alla salute ha dato il via libera alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di diverse strutture complesse, così come era stato chiesto dal manager Ficarra già nello scorso mese di febbraio. Stiamo parlando delle unità di cardiologia con UTIC, anestesia e rianimazione e medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza degli ospedali di Sciacca e Agrigento. Nella nota di autorizzazione del 10 aprile scorso a firma dell'assessore regionale alla salute Baldo Gucciarti e diretta al direttore generale dell'Asp Salvatore Ficarra si legge che preso atto del ruolo strategico di tali strutture nell'assetto organizzativo dell'azienda sanitaria e verificata la coerenza delle stesse con il piano di rimodulazione della rete ospedaliera in Sicilia si autorizza la direzione generale all'avvio delle procedure di selezione. Si tratta di un risultato fortemente atteso, dichiara oggi Salvatore Ficarra che annuncia l'avvio da parte dell'area gestione risorse umane dell'iter di reclutamento dei professionisti. Nuovi primari in arrivo dunque per le unità operative di cardiologia e utica, anestesia, rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza all'ospedale di Sciacca. Proprio la nomina del primario del pronto soccorso del Giovanni Paolo II era stata al centro nei mesi scorsi di accese polemiche politiche soprattutto da parte del parlamentare 5 Stelle Matteo Mangiocavallo dopo il primo avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall'Asp il cui criteri per la partecipazione avevano destato più di qualche perplessità. Sui criteri di selezione dei primari delle tre unità complesse che saranno ora utilizzati la nota diramata questa mattina dalla direzione dell'Asp nulla dice.